di Roma, grande successo e l'ultimo scugnizzo di Raffaele Viviani, con Nello Mascia e tanti attori che lo stesso Mascia ci presenterà. La regia di Uo Gregoretti, adesso vi presento il leader di questa formazione che appunto è Nello Mascia. Ciao Nello. Ci presenti velocemente i tuoi amici? Sì, Maurizio Casagrande, Luciano Fruttaldo, Anna Spagnuolo, Gino Evangelista, Luciano Catapano, Ernesto Lan. Un applauso al tecnico che sta mettendo il microfono, vieni. Lui non faceva parte della formazione del Teatro Valle ma si è voluto aggregare. Allora dicevi Nello. Continuo con Adele Caprio, Rosaria De Cicco, Erio Steiner e Fiorella Sarti. Quando riprendete questa? Riprendiamo a gennaio. Questa pièce di grande successo, no? Di grande successo, andiamo a Firenze e poi siamo stati invitati al Festival di New York, rappresentiamo l'Italia. Del grande Raffaele Viviani che era poeta, commediografo, attore, autore, cantante, tutto. Musicista. E infatti chiudiamo con un brano suo, è che è la rumba degli scugnizi. E con questa rumba degli scugnizi si conclude il nostro appuntamento. Arrivederci a sabato. Ciao. Applausi. Ciao. ci ha rimasto solo. Sì, è stato un brano di terra. E' stato un brano di nuova. Ed è stato un brano di scugnizi. E' stato un brano di E' stato un brano di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.